Io sono Federico di Scambio Europeo, non so se conoscete già la nostra realtà. Noi siamo un'associazione culturale che si occupa di promuovere le opportunità di mobilità giovanile europea, in particolare all'interno del programma Erasmus Plus. Con l'informa Giovanni Bologna collaboriamo già da alcuni anni con la finestra sul mondo che è questo sportello di assistenza e di informazione che abbiamo una volta ogni due settimane il giovedì verso l'informa Giovanni e in più quest'anno stiamo facendo questa serie di incontri tematici. L'ultimo è stato su Brexit e soprattutto su le conseguenze sulla mobilità che è quello di cui ci occupiamo principalmente, sui visti e tutto quello che serve per oggi per andare in Regno Unito. Mentre oggi parliamo di podcast e in generale un po' di audio che è un ambito nel quale come Scambio Europeo da un po' di tempo ci stiamo interessando anche se non è proprio la cosa che facciamo di solito, però come vedrete e forse come già sapete i podcast sono un mezzo quindi poi il contenuto, quello che ci va dentro può essere qualsiasi cosa. Ecco, allora partirei da una definizione diciamo di cosa sono i podcast, esistono tantissime definizioni diverse perché principalmente è una cosa difficile diciamo di definire i podcast, appunto qua ho cercato una definizione da dizionario sostanzialmente quindi un file digitale che è reso disponibile su internet tramite download su computer o su un altro device e che solitamente è fatto con una modalità seriale diciamo e che può essere ricevuto automaticamente dagli iscritti. Diciamo questa appunto è una definizione un po' generica, generalista però perché è molto difficile soprattutto perché il podcast è prima di tutto una tecnologia, diciamo un'innovazione tecnologica che è così diciamo dirompente che poi va a modificare anche il contenuto sostanzialmente e proprio perché modifica le modalità di fruizione di qualcosa di invece molto più antico che è il supporto audio insomma, così antico diciamo che si potrebbe far risalire al racconto orale di fatto. E diciamo per capire come si arriva sostanzialmente ai podcast e a questa rinascita diciamo che c'è in questi anni di questa tecnologia che vedremo in realtà non è nuovissima vorrei però partire proprio diciamo dall'inizio o comunque da quella che è la storia appunto dell'audio e ovviamente per parlare dell'audio bisogna parlare della radio e vabbè la radio che insomma sapete appunto all'inizio del novecento Marconi ha inventato e poi è diventata sostanzialmente nella prima metà del novecento un compagno diciamo fedele di milioni di famiglie in tutto il mondo perché era un oggetto di casa come oggi potremmo diciamo immaginare una televisione sostanzialmente però appunto aveva questa caratteristica intanto di essere gigantesca perché se pensate appunto alle prime radio cioè erano veramente dei delle lavatrici praticamente quindi occupavano e in qualche modo potevano anche richiamare quello che ancora prima era il il focolare insomma quindi un luogo fisico all'interno della casa in cui solo in certi orari perché le trasmissioni non erano 24 ore su 24 ci si radunava e si ascoltava appunto ovviamente questo già era un'evoluzione enorme da un punto di vista della tecnologia diciamo della comunicazione perché consentiva in tempo reale di far arrivare un messaggio sostanzialmente a tantissime persone e era anche creava anche questo momento di ascolto comune che poi come vedremo con i podcast cioè diciamo oggi non è più non esiste più sostanzialmente però chi lo sa magari un giorno potrebbe potrebbe tornare e ho scelto per parlare diciamo di quella di quella di quell'epoca un audio che ora vi faccio ascoltare che è diciamo un momento secondo me di cambiamento molto importante proprio sul mezzo e sulla fruizione del mezzo audio perché praticamente il racconto in diretta spero che riusciate un po' a capire perché va in inglese è anche un po' disturbato però ho messo accanto la trascrizione spero che un po' si capisca del disastro dell'Hindenburg cioè quando appunto uno Zeppelin è andato a fuoco praticamente in New Jersey nel 37 e c'era un cronista radiofonico presente che in diretta diciamo sentirete proprio anche la disperazione quasi di questa persona che assiste a una cosa del genere c'è da dire che questa registrazione è andata in onda poi il giorno dopo quindi non in diretta perché ancora la tecnologia non lo consentiva però all'epoca fu una cosa quando ancora appunto esistevano i video infatti voi vedrete qua anche il video però il video era qualcosa che c'era di molto raro c'erano i cinegiornali quindi mentre la radio appunto era già presente nelle case di milioni di persone grazie a tutti grazie a tutti ecco questo audio secondo me è veramente emblematico perché senza rendersene conto questo giornalista fa qualcosa che invece oggi è tornato veramente attuale che è far sentire la presenza sulla scena appunto se leggete un po' il testo ci sono dei momenti in cui lui chiede alle persone di spostarsi in cui dice non riesco a respirare cioè va proprio sul posto tant'è che appunto chiude dicendo mi devo fermare un momento perché ho perso la voce questa è la cosa peggiore che abbia mai visto nella mia vita quindi questo è stato un momento in cui come vabbè ovviamente ce ne sono tanti altri però in cui veramente il mezzo radiofonico ha fatto un salto di qualità e questo appunto era il 37 l'anno dopo invece il 30 ottobre del 1938 c'è appunto un episodio famosissimo nella storia della radio ma anche in generale della comunicazione diciamo dell'intrattenimento che è il riadattamento radiofonico di Orson Welles della guerra dei mondi che è appunto un romanzo di fantascienza di Welles che parla sostanzialmente di un attacco alieno di marziani che attaccano la terra Orson Welles fa una cosa geniale ovvero ricrea questa situazione inserendola sostanzialmente nel normale palinsesto radiofonico quindi sostanzialmente facendo partire il tutto con un finto concerto diciamo in un teatro di New York che improvvisamente quindi si sente la musica che improvvisamente un po' per volta viene interrotto da delle come se fossero delle breaking news dei bollettini speciali in cui piano piano si inizia a dire ma qua sembra che ci sia si è atterrato qualcosa e poi sono sempre più allarmati e questo ha creato diciamo non proprio un panico ma insomma ha creato un po' di problemi all'epoca perché tantissime persone ovviamente pensavano hanno pensato in quel momento che gli statuniti fossero in basi dagli alieni quindi anche per farvi capire la potenza di quel mezzo di quel mezzo in quegli anni che appunto sono chiamati l'epoca d'oro della radio da lì infatti inizia un periodo appunto importantissimo per la produzione radioponica dagli anni che appunto va dai 40 si potrebbe dire fino quasi ai 70 cioè fino all'arrivo ovviamente della televisione e alla distribuzione diciamo all'arrivo la diffusione della televisione a livello di massa e ovviamente l'arrivo dell'immagine dello schermo toglie tantissimo mordente diciamo invece alla potenza dell'audio che diciamo molti dicono l'audio è una cosa potentissima è una forma espressiva potentissima perché il palcoscenico dell'audio è la mente dell'ascoltatore quindi non c'è altro appunto non ci sono immagini non c'è un vero palcoscenico e quindi niente più potente dell'immaginazione diciamo di chi ascolta questa diciamo c'è un cambiamento importante dopo lo vedremo un po' meglio che è l'invenzione del transistor che poi appunto vi spiegherò un po' meglio cos'è ma è che è quello sostanzialmente che consente di trasportare quella radio che era appunto un elettrodomestico dentro alle case delle persone sostanzialmente in una tasca in una radiolina e quindi ridà diciamo ubiquità alla radio esatto è questo che vedete qua non è altro che un chip sostanzialmente un'antenna mentre prima c'erano delle valvole delle cose gigantesche diciamo questo crea diciamo il concetto di radio con cui noi siamo più familiari e questa cosa nello specifico in Italia unita diciamo a una serie di legislazioni che lo consentivano fa sì che appunto negli anni 70 inizi la la stagione delle radio libere che appunto un po' in tutta Europa ma in particolare in Italia diciamo hanno segnato un momento di svolta perché diciamo hanno anche tolto il monopolio diciamo o semi monopolio che ovviamente veniva era detenuto dalla RAI e perché appunto hanno dato diciamo un canale espressivo a tantissime persone libero appunto cioè che prima non era diciamo non era immaginabile quindi questo è un altro passaggio importante sì poi diciamo dopo questo non ho fatto una slide su questo però gli anni 80-90 fino a sostanzialmente a ora cosa succede che diciamo la televisione è sempre più preponderante quindi l'audio viene diciamo relegato alle radio e in particolare alle radio di flusso e questa è una distinzione diciamo molto importante tra radio di flusso e radio parlata si dice radio di flusso è quella diciamo che siamo abituati a sentire semplicemente accendendo una radio in macchina quindi che sembra più un intermezzo tra canzoni diciamo che non diciamo qualcosa di strutturato proprio perché il tempo dell'ascolto questo è un concetto anche molto importante i modi e i tempi dell'ascolto sono stati diciamo appunto relegati sostanzialmente a quello agli spostamenti in macchina o magari appunto alle faccende domestiche o poco più e appunto altri mezzi oggi diciamo hanno preso insomma sono diventati preponderanti diciamo nell'economia del consumo di intrattenimento o di informazione nonostante questo appunto il podcast e arriviamo ai podcast è una tecnologia nuova per un medium appunto molto molto antico che come dicevo prima si può anche ricollegare appunto al raccontorale quindi proprio ancora prima che diciamo si sviluppassero le tecnologie vere e proprie di comunicazione e come appunto negli anni 60-70 il transistor quindi questa piccola antenna ha sconvolto completamente l'utilizzo della radio oggi gli smartphone e diciamo l'accesso ad internet hanno creato diciamo posto le basi per per questa per questa rinascita che oggi vive una fase appunto come come era accaduto alla radio diciamo nella sua prima diffusione di vera e propria esplosione e che sta trasformando il podcasting diciamo da una cosa amatoriale o comunque per pochi appassionati in un medium di massa con un mercato appunto che in Italia sta iniziando ora diciamo a muovere i primi passi ma che si sta evolvendo molto velocemente un'altra appunto come dicevo prima un'altra novità in realtà del podcasting questo diciamo ritorna al passato cioè la possibilità di tornare alla radio parlata questo perché il podcasting cambiando le modalità di fruizione permette anche di dedicare molto più tempo di approfondire i temi una cosa che non è non è non è possibile o comunque molto complicata su una radio che invece ha un palinzesto molto definito in cui ci sono spazi pubblicitari in cui si sa che le persone in determinate ore ci sono in altre non hanno voglia di impegnarsi diciamo quindi molto più attento diciamo appunto alle esigenze dell'ascoltatore invece in questo caso visto che tutto è on demand questa è l'altra grandissima innovazione non solo è possibile appunto raggiungere l'ascoltatore quando vuole l'ascoltatore sostanzialmente quindi se ha voglia di dedicare tre ore all'ascolto di qualcosa se di approfondito lo può fare ma anche svincolato dalla diretta e questo consente appunto delle modalità di ascolto diverse come ad esempio il binge listening cioè quello che viene fatto che si fa di solito con le serie televisive cioè di guardarsi una serie tutta di fila ovviamente può essere fatto anche con l'audio ma anche di produzione perché ovviamente quando si va a produrre un contenuto audio per i podcast si è consapevoli anzi bisogna proprio immedesimarsi in questa cosa esattamente come è un conduttore radiofonico di radio di flusso deve appunto è consapevole di fare un programma di flusso appunto qui ho messo una diciamo una breve cronologia diciamo di alcuni punti salienti del di quello che è il podcast sarà il podcast come tecnologia nasce appunto vedete nel 2000 quindi come dicevo prima non è una tecnologia nuova o non nuovissima comunque e si basa su un concetto molto semplice cerchiamo di entrare nei tecnicismi che è il feed rss cioè il feed rss per diciamo per fare un paragone secondo me calzante in questo caso è molto simile a le onde radio per l'appunto cioè le onde radio vengono sparse nell'etere sostanzialmente e i feed rss più o meno fanno una cosa simile cioè inviano dei un segnale sostanzialmente che può essere captato dall'altra parte e questo segnale è costantemente aggiornato nel caso dei podcast ovvero ogni volta che appunto viene pubblicato un nuovo contenuto sostanzialmente il ricevente lo può lo può vedere poi appunto qua vabbè vediamo altri altri passaggi più di costume quindi nel 2004 e la parola podcast viene usata per la prima volta su un articolo del Guardian nel 2005 e il l'occhio di dizionario americano di Oxford la identifica come parola dell'anno e via discorrendo finché non si arriva a novembre 2014 che è considerato diciamo l'inizio di quella che viene chiamata appunto la seconda ondata del podcasting proprio perché in mezzo ci sono stati 14 anni di quasi diciamo esperimenti forse o comunque di una cosa che esisteva però vuoi la appunto mancanza dei smartphone quindi la possibilità di avere internet in mobilità vuoi appunto il fatto che ancora fosse solo una cosa di appassionati soprattutto appassionati della tecnologia più che poi dei contenuti il podcast esisteva ma è sempre rimasto diciamo un po' in sordina nel 2014 succede una cosa molto importante cioè esce quella che è considerata appunto la serie capostipite appunto della seconda ondata del podcasting che si chiama Serial per l'appunto quindi neanche troppa fantasia nel nome si chiama Serial proprio perché introduce per la prima volta il concetto di serialità che era una cosa che appunto prima non solo era difficile da comprendere ma in una radio era anche esisteva ovviamente ma era un po' in disuso perché richiedeva cioè una presenza da parte costante da parte dell'ascoltatore mentre come detto appunto i podcast consentono sostanzialmente la funzione quando e come si vuole esattamente come una serie tv questo è Serial appunto esce nel 2014 reintroduce e reintroduce questo concetto di serialità rimane prima in classifica nei Stati Uniti per tre mesi e nei primi tre mesi viene scaricato da 5 milioni di persone e poi addirittura sono state fatte le serie tv derivate perché insomma è stato è tuttora viene tuttora ascoltato diciamo è considerato appunto una pietra miliare e diciamo e poi sfrutta uno come genere diciamo è uno dei generi più diffusi nel podcasting non solo in realtà che è quello del true crime quindi in due parole diciamo la trama riguarda un vecchio omicidio di una ragazza a Baltimora per cui è stato indagato e incarcerato una persona un suo compagno di classe e sostanzialmente però questa versione diciamo non convince la giornalista che inizia questa questa indagine per capire se effettivamente quella è la verità processuale diciamo effettivamente è anche la verità attuale quindi nel 2014 inizia appunto la seconda on data del podcasting qui ho messo dei numeri sull'utenza americana potete appunto vedere un'impennata abbastanza netta e che continua devo dire e appunto vediamo che mediamente il 57% dei americani ha ascoltato almeno una volta podcast il 41% dei americani lo ha ascoltato almeno un podcast nell'ultimo mese quindi insomma si tratta di veramente tantissime persone questo invece è diciamo la situazione in Italia potete vedere che vabbè tra il 2015 e il 2018 c'è un salto clamoroso e non solo c'è un salto clamoroso ma in quei tre anni nessuno ha mai pensato di porre questa domanda era talmente marginale il fenomeno che nessuno ha rifatto questa ricerca tra il 2015 e il 2018 poi nel 2018 in Italia è successo una cosa molto simile a quella che è successa negli Stati Uniti con Serial perché Repubblica ha pubblicato Veleno di Pablo Trincia che è appunto anche quello un podcast su Grime tra l'altro su una storia diciamo di queste parti che si sviluppa nel Modenese e quello diciamo appunto con l'intento di replicare quello che era successo negli Stati Uniti con Serial è stato diciamo un'apripista veramente ha portato a una diffusione massiccia del podcast che come vediamo qua attualmente in Italia conta circa 14 milioni e mezzo di ascoltatori allora ah no prima volevo farvi vedere questa ah no partiamo da qua allora come dicevo come funziona diciamo il come arrivano i podcast dagli ascoltatori allora con questi passaggi qua c'è ovviamente il podcaster cioè quello che produce il contenuto come dicevo prima questo contenuto viene inserito in un feed rss che appunto potete pensarlo come qualcosa di simile a appunto delle onde radio che vengono ricevute da le app le cosiddette app o player che sono quelle sostanzialmente che ognuno di noi si può scaricare sul proprio telefono e dentro a queste app poi appunto sono ogni volta sostanzialmente che viene pubblicata una nuova puntata un nuovo contenuto l'app diciamo lo notifica quindi e poi ovviamente è così arrivano gli ascoltatori questo può sembrare una cosa banale però in realtà questo schema fa capire molto bene come come questo meccanismo sia fondamentalmente libero perché non sono le app a detenere il contenuto ma il contenuto è sul feed rss quindi è da un'altra parte questo per esempio non è vero nel caso di youtube se ci pensate cioè youtube ha un passaggio in meno cioè io carico direttamente il mio video su youtube che sostanzialmente ne diventa proprietario e posso vederlo solo su youtube qua invece qua vabbè qua potete vedere diciamo le alcune delle app principali che immagino conoscerete una quella di apple che è preinstallata sui dispositivi apple una è spotify ovviamente l'altra è google podcast e ce ne sono diciamo tantissime che ripeto però nessuna di queste è proprietaria o comunque nessuna di queste detiene effettivamente il file mp3 perché poi di questo si tratta di un file audio della vostra puntata diciamo ma siete voi appunto a distribuirla poi su tutte le app quindi questa è una cosa importante diciamo si spera che questa cosa non venga alterata anche se come vedete questo grafico è più o meno quello che sta succedendo dal monopolio di un'app queste sono l'utilizzo delle app in italia aggiornata al 2020 come vedete c'è un aumento spropositato di spotify che appunto attualmente diciamo come in prospettiva rischia diciamo di monopolizzare questa cosa però ripeto queste sono comunque scelte degli utenti cioè gli utenti decidono di utilizzare un'app in questo caso spotify perché ovviamente le persone ascoltano anche la musica quindi è molto comodo diciamo avere nella stessa app la musica e i podcast però sì esatto più o meno questa è la situazione la seconda staccata di molto è Spreaker che è un'azienda nata a Bologna che però attualmente è negli Stati Uniti ma che in tempi non sospetti appunto ha iniziato a lavorare con i podcast da qua e attualmente è una delle aziende più grandi diciamo in questo settore sempre parlando un po' di numeri questi sono appunto alcuni numeri sulle tipologie di podcast che vengono ascoltate in Italia sono molto varie cioè è anche abbastanza difficile diciamo definirla infatti se vedete il 47% è su altro che non vuol dire tutto e niente perché come dicevo prima i podcast sono principalmente una tecnologia quindi il contenuto può essere veramente dei più vari e dei più diversi infatti andiamo a vedere un po' quali sono i principali formati del podcast allora sì l'intervista la conversazione diciamo forse è anche quello più immediato che magari con cui magari avete avuto modo di confrontarvi perché sostanzialmente è anche molto simile diciamo alla radio o comunque semplicemente con due microfoni o anche nei ultimi tempi con meet con skype si può creare un'intervista poi esistono i commenti a voce singola quindi c'è una sola persona che parla poi sono i panel che diciamo differiscono l'intervista nel senso che sono magari dei conduttori fissi che parlano tra di loro sostanzialmente che discutono poi c'è il podcast narrativo che può essere di due tipologie narrativo non fiction che per esempio è il caso di appunto veleno ma anche di serial cioè che parte dalla realtà da una storia reale di solito un crimine o insomma qualcosa di simile che e la analizza e la racconta in audio oppure il podcast narrativo fiction in cui invece appunto si crea si crea qualcosa come in un romanzo insomma come in un film si creano anche cose realistiche ma non reali e poi ci sono i contenuti riproposti e gli audiolibri che io qua ho messo insieme per un motivo molto semplice perché nessuno di questi due è un contenuto che inizialmente viene pensato per l'audio il contenuto riproposto già di più si può dire perché ovviamente il caso più famoso in Italia di un contenuto riproposto sono Alessandro Barbero che diciamo il cui podcast è ascoltatissimo ma che non è altro appunto questo podcast che un contenuto riproposto cioè qualcuno che ha registrato le sue conferenze che quindi sono sì per degli ascoltatori ovviamente ma non prettamente per l'audio mi viene da dire perché comunque c'è una parte di presenza scenica e semplicemente queste registrazioni vengono poi appunto distribuite mentre gli audiolibri poi lo vedremo meglio ma insomma non sono ovviamente scritti per l'audio questo appunto è una sono altre un altro pari di dati sulle tipologie di ascolto le notizie per esempio sono un'altra ovviamente un'altra tipologia le notizie possono essere affrontate diciamo con tanti format diversi ora lo vedremo perché ho fatto un po' una lista di podcast però è una cosa diciamo su cui i podcast sono una cosa su cui rispetto alle notizie molte persone si stanno avvicinando soprattutto in queste devo dire in questi ultimi mesi anche visto le vicende internazionali perché danno in qualche modo un senso di affidabilità perché metterci la voce di solito e anche riuscire appunto a approfondire le cose con tempi che non sono diciamo dettati da una ricerca spasmodica di attenzione riescono sono cose che riescono a creare un legame di fiducia con il pubblico almeno secondo me ma anche secondo un sacco di sondaggi che sono usciti e che fanno vedere come appunto questo vale ovviamente anche per le radio ma in generale l'audio sia un canale che sta diciamo convincendo molto appunto come fonte di notizie ma anche mi viene da dire diciamo più o meno per gli stessi motivi per lo studio cioè molti molti dati diciamo indicano che anche come appunto un metodo di studio soprattutto i giovanissimi diciamo gli under 18 stanno iniziando a vedere appunto nell'audio un canale privilegiato allora come si scoprono i podcast questo è un punto dolente perché attualmente soprattutto in Italia visto che appunto è un mondo ancora abbastanza in evoluzione non esiste non esistono dei veri e propri canali diciamo come potrebbero esistere per esempio per il cinema o per i libri dove appunto si possono leggere recensioni questo ovviamente perché il mercato è ancora in evoluzione le cose che vengono prodotte sono ancora non sono tantissime e comunque spesso non sono di qualità diciamo eccelsa e quindi ovviamente anche non esiste una critica sostanzialmente cioè non si non si ritiene neanche necessario sostanzialmente che esista una critica quindi attualmente i modi per scoprire nuovi podcast sono le classifiche delle app che però hanno diciamo una serie di di problemi perché come dire creano un circolo vizioso per cui io ascolto i podcast che sono in classifica che quindi rimangono in classifica e sostanzialmente non fanno scoprire nuove cose che invece è quello che servirebbe c'è ovviamente la ricerca interna delle piattaforme quindi appunto di quelle che vi ho citato prima che però anche questa ovviamente anche qua bisogna sapere cosa cercare quindi c'è un limite una barriera proprio all'ingresso esistono delle newsletter dedicate in Italia in particolare io vi consiglio ve ne consiglio due che si chiamano una si chiama orecchiabile e un'altra si chiama invece questioni d'orecchio che seguono anche consigliano cose e seguono anche appunto il mondo del podcasting in Italia e poi vabbè ovviamente ci sono i social però i social poi vanno di pari passo con l'ultimo punto che poi in realtà rimane quello più importante che è il passaparola il passaparola che devo dire reso difficoltoso dal fatto che ascoltare i podcast è un'attività molto personale mi viene da dire anche perché ascoltare un podcast in cuffia soprattutto quando è fatto bene diciamo c'è del lavoro professionale dietro è un'esperienza completamente diversa rispetto ad ascoltarlo in una cassa e quindi a condividere l'ascolto a proposito di questo io con alcuni amici per esempio abbiamo fatto un circolo con gli ascoltatori proprio per condividere un po' anche perché non è facilissimo appunto trovare persone che ascoltano i podcast almeno per ora però sì il passaparola diciamo rimane sempre il canale privilegiato ok poi io ho fatto un po' un elenco di cose secondo me appunto un po' ascoltabili allora rispetto intervista conversazione Musca Selvaggio Kashmir sono come dire possono sono stanno qua ma potrebbero stare tranquillamente in contenuti riproposti quello che dicevo prima cioè perché non sono cose pensate per essere veramente dei podcast sono quasi più pensate per il video infatti vanno entrambe su YouTube e sono delle conversazioni appunto con interviste personaggi famosi il Gorilla cela piccolo è un podcast di storie libere storie libere è uno dei principali produttori di podcast in Italia e è un podcast che parla di etologia principalmente quindi di animali di comportamento animale in generale diciamo un po' di mondo della natura ecco con un focus sui animali e sempre con uno degli ospiti diciamo preparati ho messo uno di troppo Green Pizza è un podcast uscito da poco in realtà fatto da Green Peace Italia quindi sui temi ambientali del cambiamento climatico Politics è un podcast del Post fatto da Francesco Costa che è uno dei diciamo dei primi che è stato uno dei primi in Italia a portare il podcast e in particolare il podcast di informazione e Scientificast invece appunto è un podcast che si occupa di temi scientifici anche in questo caso con esperti che vengono invitati di volta in volta questo è un daily cioè è uno di quei podcast che esce quotidianamente che è qualcosa che sta venendo fuori molto nell'ultimo periodo ecco qua anche qua ho sbagliato quelli a destra sono in inglese ho sbagliato a scrivere poi modifierò questo allora quelli che vi consiglio in inglese sono The Daily che è un podcast appunto daily del New York Times anche se è molto approfondito cioè nel senso sono puntate quotidiane ma che durano 20-30 minuti con i giornalisti del New York Times quindi c'è un host uno speaker principale che di solito parla appunto dell'argomento del giorno Vox Conversation è una cosa molto simile però di Vox che è un'altra testata americana TED Talks anche questo come dicevo prima potrebbe essere un contenuto che non è pensato come podcast perché sono appunto i talk di TED che immagino conoscerete Sway The Sway è un invece appunto parla diciamo principalmente di temi diciamo di innovazione e potere diciamo così cioè come la Silicon Valley sostanzialmente l'impatto che la Silicon Valley ha anche sulla cioè i dibattiti che si generano sulla su variazze tematiche appunto legate all'innovazione nella tecnologia negli Stati Uniti e poi ci sono Radiolab e Planet Money che sono due podcast di NPR che è la radio pubblica americana che sono diciamo molto simili perché uno su Radiolab sulla scienza e Planet Money sull'economia riescono a raccontare diciamo tematiche anche molto complesse in una maniera estremamente semplice divertente e che intrattiene perché riescono a legarle diciamo a storie di vita quindi a eventi veramente molto vicini che però attraverso i quali loro riescono a spiegare per esempio cose appunto meccanismi complessi dell'economia o appunto cose molto complesse da un punto di vista scientifico ve li consiglio entrambi allora commento a voce singola è semplicemente un'unica persona che parla allora in inglese ne ho messo solo uno perché diciamo non è una cosa che ascolto molto in inglese quindi sinceramente non so cosa pensare si chiama Arcory Story che appunto è come dice il titolo è un podcast sulla storia che potremmo diciamo in qualche modo paragonare a Barbero però diciamo molto più hardcore come dice il titolo quindi che va veramente in profondità con puntate anche lunghissime mentre in italiano allora io appunto vi consiglio Fastidio che è niente un podcast settimanale che sostanzialmente parla di attualità politica economica internazionale problemi problemi di Jonathan Zenti che è un podcast diciamo molto intimo e personale appunto sul punto di vista di Jonathan Zenti che è uno dei primissimi anche lui in Italia a aver lavorato con l'audio molto bravo Dei Lico Agito invece è un podcast di Rick Duferre che è un filosofo diciamo diventato famoso su YouTube che però appunto ora si dedica molto al podcasting e appunto fa un daily quotidiano anche lui diciamo su temi di attualità ma anche appunto più vaghi su dalla letteratura ai film alla filosofia ecco poi andiamo sul narrativo non fiction che è diciamo dove poi effettivamente devo dire negli ultimi anni c'è la la polpa nel senso che è quello che veramente tira tantissimo gli ascoltatori vi ho già citato Veleno recentemente è uscito un altro podcast di Paolo Trincia che si chiama Il Dito di Dio in in occasione del decennale del del Zazzo della Concordia e parla di quello appunto raccogliendo anche le voci molte voci di persone che erano lì poi vi consiglio Vlora La nave che esponde il muro secondo me un podcast veramente molto bello prodotto dalla stampa e che parla appunto della Vlora cioè la nave che negli anni 90 mi pare proprio nel 90 è sbarcata al porto di Bari con mi pare 15.000 persone che scappano dalla guerra civile in Albania quindi un podcast molto bello che appunto va anche a fa sentire le voci proprio dei baresi che poi in quei giorni hanno accolto queste persone poi vi consiglio Prima di Sara Poma spero di non essere perché sembra un elenco della spesa spero di non essere che Dante Prima un podcast molto bello di Sara Poma che parla della prima attivista lesbica in Italia Maria Silvia Spolato che è una persona che diciamo quando ha appunto ha dichiarato pubblicamente una manifestazione l'8 marzo a Roma mi pare del 73 la sua omosessualità è stata licenziata e sostanzialmente poi ha visto il resto della sua vita nei treni praticamente lei aveva un abbonamento del treno e faceva Roma Bolzano costantemente e poi si sono perse le tracce di questa persona quindi questo è un podcast investigativo senza un crimine sostanzialmente dove si va a investigare la vita di una persona un po' dimenticata Stories di Cecilia Sala che appunto attualmente è il podcast che ha ascoltato d'Italia anche perché appunto Cecilia Sala in questi giorni è in Ucraina quindi è un podcast quotidiano di 6 minuti più o meno molto breve che era nato per raccontare diciamo le vicende internazionali ovviamente in questo periodo ne racconta solo una e anche dal diciamo dal fronte sul campo Storia di Brand è un podcast come dice il titolo che parla di brand a me non è una cosa che mi interessa molto però insomma è abbastanza famosa in Italia quindi marchi famosi come ce l'hanno fatta B-History è un podcast di storia un po' diverso rispetto a quello di Barbero quindi un po' più come dire un po' più da studio perché come dicevo prima Barbero sono delle conferenze registrate e poi Utoya uno di noi è una cosa completamente diversa già avete visto molte differenze tra questi tra questi perché alcuni in alcun c'è un lavoro investigativo con le interviste alcuni sono proprio semplicemente scritti in studio e diciamo letti soprattutto storie di brand B-History sono così invece Utoya uno di noi è un radiodramma ovvero una una cosa recitata sostanzialmente ma comunque non fiction cioè perché appunto parla della strage di Utoya è tratta dal romanzo in realtà ma adattata per l'audio quindi con un cast a più voci è diciamo come si fosse una vera e propria opera teatrale che racconta appunto la strage di Utoya è stata fatta da Ponderia Mercury che sono diciamo una compagnia di teatrale mi viene da dire sì milanese che lavora su questo sui radiogrammi ecco qua ho lasciato lo stesso errore dell'altro ovviamente in inglese allora vi consiglio True Line sulla storia prendono praticamente un evento storico e lo ripercorre insieme a un esperta ma è fatto in un modo veramente veramente bello The Missing Crypto Queen prodotto dalla BBC è praticamente una storia assurda di una una tizia che praticamente era a capo sostanzialmente di una di uno schema piramidale diciamo con le cripto poi praticamente questa qua è sparita nel nulla e quindi questo è anche questo un podcast di inchiesta dove c'è il lavoro giornalistico di andare a accettare questa persona Firebug anche questa è una storia vera e praticamente racconta la storia di una serie di incendi dolosi in California di cui non si riusciva a trovare diciamo il colpevole finché sostanzialmente ne ha spontato fuori un romanzo che gli raccontava con diciamo con dettagli perfetti e quindi da qua inizia la ricerca Dirty John è invece una serie che parla che tra l'altro è stata tradotta anche in italiano credo perché in Inghilterra negli Stati Uniti ha avuto tantissima fama tanto che c'è una serie Netflix tratta da questo podcast che è a sua volta tratto da una storia vera diciamo di violenza domestica appunto di una relazione basata su menzogne diciamo e violenza psicologica e fisica Wind of Change provo ad andare velocissimo anche questa è una una sorta di investigazione storica sulla canzone degli Scorpion Wind of Change perché diciamo si diceva che questa canzone che è uscita pochissimi mesi prima del crollo del muro di Berlino e che era famosissima sia in Germania dell'Est che nel mondo sovietico abbia in qualche modo avuto un impatto ma si è anche stata diciamo spinta volontariamente proprio per questa e quindi è un'investigazione su questa 1865 invece come utoria uno di noi è un radiodramma che quindi diciamo completamente inventato da un punto di vista di sceneggiatura di dialoghi eccetera ma che parla in realtà di un fatto reale cioè parte dall'uccisione di Abraham Lincoln e sostanzialmente l'indagine su chi l'ha ucciso chi sono stati mandanti e riesce veramente a ricreare quella quell'atmosfera e anche a far capire appunto come erano gli Stati Uniti nella guerra civile diciamo andiamo invece sul fiction cioè fiction vuol dire una cosa totalmente inventata allora su questo in Italia purtroppo ancora non c'è molto però io vi consiglio questi tre allora c'è vita nel grande nulla agricolo che poi va di pari passo con quello che vedete accanto welcome to night whale perché più o meno sono lo stesso concetto infatti ve li dico insieme il concetto sostanzialmente è una diciamo un ambiente rurale dove succedono delle cose paranormali diciamo quindi solo che quello americano ovviamente è ambientato non lo so nel appunto nel Midwest americano quello italiano c'è vita nel grande nulla agricola è ambientato qua da ste parti cioè Villa Mara non si capisce bene ma sembra lì di Ferraresi o qualcosa del genere è una specie di horror comico diciamo fa molto ridere Rider nella notte invece è stato scritto durante la pandemia da Caglielli che è uno sceneggiatore di fumetti molto bravo italiano e è diciamo autofiction nel senso che parla di se stesso che perde il lavoro durante la pandemia e si reinventa Rider di bevande alcoliche a Milano e quindi è un po' vero un po' romanzato però è la sua storia in questo appunto Milano deserta è lui che incontra diciamo umanità varia Sete la grande transizione invece è un radiodramma anche questo fiction però in questo caso quindi non come Utoia che invece è basato su fatti reali e che immagina un mondo diciamo futuro prossimo dove c'è un problema di approvisionamento dell'acqua in inglese provo ad andare velocissimo We Are Alive è una serie molto vecchia di diciamo sopravvivenza zombie tutta recitata quindi radiodramma anche questo fatto molto bene The Truth si chiama The Truth ma non c'è niente di vero praticamente sono loro dicono sono dei film da ascoltare è effettivamente così sono delle cose che vanno dai 20 ai 40 minuti tutte recitate è una cosa molto particolare City of Ghost è una serie anche questa recitata radiodramma molto bella ambientata in New York in anni 90 e parla di una ragazza che sostanzialmente fa di lavoro una specie di investigatrice privata che cerca il marcio diciamo dei politici o comunque dei corrotti di New York appunto ma lo fa diciamo aiutata da delle voci che lei sente e che appunto sono i fantasmi della città l'ultimo invece Appearances anche questo è un'autofiction che parla di una ragazza iraniana americana diciamo di seconda generazione e del suo diciamo diciamo dei suoi problemi con la famiglia con appunto le apparenze di appunto una famiglia iraniana e quindi una comunità chiusa e anche della sua diciamo voglia di avere un figlio e lei lo fa in maniera geniale non parlando di se stessa ma sostanzialmente creando un personaggio e dicendoti questo personaggio sono io ma anche non sono io è molto bello appunto è autofiction ok questi erano dei podcast che vi consiglio mentre sugli audiolibri niente cosa c'è da dire sugli audiolibri quello che vi dicevo prima cioè un audiolibro è un libro letto da un autore cioè da un attore o da uno speaker ma a differenza di podcast il testo non è stato scritto per l'audio e quindi è una tipologia di ascolto molto diversa rispetto ai podcast in Italia per gli audiolibri esistono due servizi a pagamento che sono audible e storytell che entrambi appunto sono a pagamento però entrambi oltre al catalogo dei libri producono anche dei contenuti originali quindi potete trovare dentro cose che sono podcast diciamo così quindi più che altro audio originali cioè pensati e scritti per l'audio e poi vabbè vi consiglio ad altavoce che è un classico che è uno storico programma di Radio 3 che propone i classici della letteratura gratuitamente appunto lo potete ascoltare o sulla radio o da podcast e poi ho fatto una piccola selezione dei podcast per imparare lingue visto che appunto noi ci occupiamo di mobilità europea e appunto come i film e le serie tv i podcast sono un ottimo modo di migliorare la lingua chiaramente non è facilissimo trovare il podcast giusto perché chi lo fa non pensa che poi venga usufruito da qualcuno che non parla la sua lingua di solito quindi alcuni possono essere ostici decisamente ostici però ovviamente esistono dei podcast pensati specificatamente per chi vuole imparare una lingua e poi appunto c'è un trucco che vale sempre e che quando si ascolta un podcast in lingua è di abbassare la velocità di ascolto semplicemente quasi tutti i player consentono di modificare la velocità di ascolto quindi abbassarla o velocizzarla e quindi questo è un ottimo modo proprio anche per allenare l'ascolto allora partiamo ovviamente dall'inglese allora ho consigliato tre podcast uno il più istituzionale diciamo è quello del British Council quindi sicuramente fatto molto bene diciamo è pensato appunto per chi vuole imparare l'inglese tra il livello A2 e B1 quindi non proprio introduttivo però insomma diciamo un livello intermedio è sicuramente un buon punto di partenza perché ha delle basi in inglese Luke's English Podcast appunto è invece uno dei podcast più longevi che esistono per imparare l'inglese lui Luke è un stand up comedian quindi anche tutto il diciamo viene interpretato tutto molto in chiave comica e anche è molto intrattiene molto diciamo e si possono imparare appunto aiuta diciamo per l'uso quotidiano e anche per conoscere appunto la storia e la cultura anglosassone in generale poi vi consiglio un podcast italiano invece che si chiama praticamente inglese che appunto è diciamo focalizzato sull'uso quotidiano dell'inglese soprattutto da un punto di vista orale e anche diciamo focalizzato magari sul lavoro ecco per il francese invece allora anche qua due in inglese e uno in italiano allora quello in italiano appunto è francese passepartout di Silvia Tarantino che è molto brava e appunto va bene anche per principianti proprio perché la lingua di base di partenza è l'italiano diciamo poi vi consiglio questo Learn French by Podcast un podcast abbastanza vecchio in realtà però comunque valido che sono che è un podcast bilingue come anche l'altro che appunto sono bilingue quindi comunque dovreste avere una base in inglese sarebbe meglio avere una base in inglese però di solito in questi podcast come in questo sotto in cui scusate ma non ho corretto il titolo che è il podcast di francese di Duolingo forse avete riconosciuto il logo Duolingo è un'app per imparare le lingue sono entrambi in inglese questi podcast ma alternato con il francese quindi sostanzialmente di solito i concetti vengono ripetuti in due lingue in maniera tale appunto però ovviamente ve li consiglio se avete una base in inglese questo appunto Learn French by Podcast sono proprio lezioni quindi è un podcast pensato in maniera specifica per quello mentre quello di Duolingo il Duolingo racconta le storie vere quindi se se scusate se dovessimo definirlo sarebbe un podcast non fiction che però ovviamente viene fatto in bilingue proprio per consentire l'apprendimento del francese per lo spagnolo allora qua invece praticamente abbiamo un podcast in spagnolo che si chiama appunto Oia Blamos e che è appunto molto utile per il vocabolario e per le espressioni idiomatiche quindi per l'uso quotidiano poi abbiamo un podcast come dicevo prima questo di Duolingo che è sia in spagnolo che in inglese e quindi anche qua come quello in francese è la stessa tipologia quindi le storie vere narrate in due lingue e poi un podcast in italiano che si chiama spagnolo a 360 gradi in cui è in italiano però è fatto da una madrelingua spagnola diciamo quindi che vive in Italia quindi è veramente adatto e pensato diciamo per gli italiani che appunto vogliono migliorare lo spagnolo e basta questo è qua vi lascio un QR code se volete poi accedere a a questa presentazione niente grazie